Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo in un nuovo video su Dragon Box 1 verso 2 In questo video ragazzi vi farò vedere una richiesta da 120 dollari che mi è stata fatta da un Patreon Ovviamente ragazzi la richiesta è veramente qualcosa di figo, ma andiamo ad analizzare la moda nel dettaglio Questo ragazzi è Genos, la richiesta che mi è stata fatta dal Patreon di 120 dollari Ovviamente ragazzi non è solamente questa forma, ci mancherebbe, ma ha pure delle altre forme Andiamone a vedere insieme Questa è la prima forma, super segnal leggendario diciamo, tipo la forma soppressa Mi chiamo un po' Zeno Questo qua è Super Saiyan Rose leggendario Ovviamente ragazzi Laura cambia ad ogni trasformazione, sta richiesta sempre da ragazzo che mi ha fatto la richiesta Poi abbiamo la forma Angel, un semplice Super Saiyan blu più che alto Con i capelli di Gon, Super Saiyan 2 con delle piccole modifiche Poi ovviamente ragazzi abbiamo un'altra forma, ovvero la forma Omni Ormai ragazzi il mio marchio di fabbrica E comunque questa è la forma Omni, guardate quanto è figa Ma non è finita qui Infatti ragazzi abbiamo la mostra, anzi la forma definitiva Che è one shot a ogni nemico, ovvero la forma Ultra Kaioken E' spettacolare ragazzi Quanto è veloce poi c'è C'è troppo veloce E devo farvi vedere una cosa, infatti Ho contro Zenothoei che è una moda OP al massimo Però non mi fa niente purtroppo A parte perché è schifo e poi comunque se dovessi subire dei danni La mia vita non scenderebbe come potete vedere Però io Andiamo con il cannone Aesir finale Che è fighissimo Come potete vedere è morto a terra praticamente Ovviamente ragazzi mi sembra non utile ricordarvi Che appunto le mosse ancora sono in work in progress E ancora ne devo fare Comunque questa è la mostra suprema La purificazione celestiale Praticamente una purificazione di Zamasu Però fatta a blu Poi abbiamo la guardia Aesir Guardate quanto è figa Cioè Cioè è spettacolare ragazzi veramente Ovviamente ragazzi Fare una semplice battaglia sarebbe inutile Infatti andremo a provare il nostro personaggio In una missione parallela Sperando che vada meglio comunque Ascesa del grande Dio Zamasu Figa Non l'ho mai fatto onestamente Proviamo un po' Anche se non è utile Perché comunque Troppo Stavo calcolando che non ho neanche skill speciali Tralasciando la Alla ultima Diciamo Ok Danno non ne prendiamo Anche ammazzati praticamente Vediamo se va a segno Vai 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 Ma No Sì Sì è andato a segno Anche se non ho fatto tantissimo danno Questo è vero Però vabbè Comunque è molto figa come mostra devo dire Perfetto Mi ha colpito da dire Stupido e infame Perfetto Radice K.O Dai Sì ma che spettacolo Vabbè dai Condendiamoci della seconda forma dai Perfetto 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 Super Super forma angelo Ok Ora dobbiamo asfaltare ovviamente Zamasu E terminiamola con la sua mossa come giusto che sia Perché non va a segno Che schifo Se io voglio fare una cosa figa E no 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 Peccato Però comunque diciamo che sta reggendo un po' Devo dire che sta reggendo Bravo Zamasu Bravo bravo Però Ormai È finita per Zamasu Se ne scappa l'infame E direi di provare a fare la merda Trasformandoci Direttamente nell'ultima forma Madonna Quanto è figo Cioè ragazzi Non lo dico comunque perché è una mia moda Se è chiaro Ma Il concept è bello Veramente è bello Raga Veramente Ma shottiamo tutti praticamente Che cosa è strano Madonna Santa Ora diventa lo sai forse No neanche Posso tornare dagli tempo Appunto Ora diventa lo sai Figo Figo Ok Andiamoci ignorantemente Con dei colpi dell'aura Così Shally Fighissimo dai Allora Sul pane Anzi con il pane Ma perché ste cazzate Boh No Sto cose non le capisco per niente Comunque C16 E selfie Dai Forse Dai forse ora si formano Forse La funzione dovrebbe avvenire ora Comunque Sì Stanno fondendo Speriamo eh Attenzione 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 Sì dai Così finiamo sta missione Quanto è figo Zamasucuso Eh mi dispiace bro Mi dispiace però Mi dispiace tantissimo L'ho malmenato Beh Leggito blu Ora Ancora deve diventare blu Contrattacchiamo E non possiamo Che bello Dai fammi contrattaccare Salco di merda Dai Oh Fighissimo ragazzi Fighissimo Bello Bello Mi piace No Penso fosse fissita Cazzo ci fanno loro Bu Fogulso nel super Non c'è gusto ragazzi Non c'è gusto Veramente Però figo 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 E niente ragazzi Per questo video è tutto Spero di quelle che vi sia piaciuto Fatemi sapere cosa ne pensate di questa mod Qua sotto nei commenti Ovviamente ragazzi È troppo fibro e figa ragazzi Se volete farmi delle richieste a pagamento Potete farlo qui sotto in descrizione Trovate gli vari link Il padrone Per farmi le richieste Inoltre Entrate nel gruppo Telegram Nel gruppo Discord Che mantenevi in contatto con me Lasciate mi piace Commentate e condividete il video Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto Mi raccomando Attivate la campanella Per avere tutte le notifiche Riguardo al canale Quindi per non perdervi Nessun video E niente Noi ci vediamo In un prossimo video Nella prossima live Un saluto da Ferraz Bella